E' al meglio di tutti! E' al meglio di tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Salute, che la gnocca è una bella cosa, eh? Non fare la timida. Guarda che non taglio, eh? Ma non è una mica vergogna, eh? Tranquillo. No, il tenno, no. Guarda che non prendiamo su questo. Ma andiamo su questo, no? Ci facciamo la canzone che sacchiamo? Grazie a tutti. 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 Dove siamo? Non lo voglio sapere. Che video è? Perché non ci vedo. Eh, non ci vedo. Perché no web. Ah, web. Non ci vedo. No. 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 Grazie a tutti. 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 E al meglio di tutti, dove siamo?